Ben trovati nel nostro spazio, lo spazio di Roma Città Aperta. Tra poco vi presenterò degli ospiti che ci racconteranno un evento in programma in questo fine settimana alle Terme di Caracalla, un evento sportivo e culturale contro la violenza. Quindi insomma ci sarà molto di interessante da vedere, da ascoltare e anche da praticare. Allo stesso tempo c'è un messaggio importante che viene lanciato in questa iniziativa. Ne parliamo tra qualche minuto, prima vi facciamo un breve aggiornamento sulle notizie di questa giornata. Intanto partiamo dallo sciopero, quello previsto per venerdì. Infatti venerdì 6 giugno si fermano tutti i dipendenti del Comune di Roma. Una cosa davvero mai vista, potrebbero esserci anche vari problemi, tra gli altri che sciopereranno. Per esempio ci sono i vigili urbani. Vediamo. Non c'è più niente da fare, lo sciopero si fa eppure alla grande. Nessun vigile urbano per strada, nessun impiegato agli sportelli, fermi, asili, sale operative, scuole materne. 24 mila dipendenti del Comune di Roma venerdì incroceranno le braccia per protesta contro quel cosiddetto contratto decentrato che tra circa 60 giorni il Capitolio dovrà avvarare. Non senza difficoltà a questo punto, anche perché i sindacati mettono addirittura in dubbio che la copertura fino a luglio per installare accessorio sia nelle casse del Comune. Ma in realtà i sindacati devono fare i conti con i dipendenti. Perché il punto non sono i sacrifici, sempre accettati, a testa bassa dai cosiddetti amministrativi, magari riservandosi qualche improperio più o meno evidente, più o meno urlato. Il punto è che di fronte al problema della spesa, ancora una volta, si parte dalla coda anziché dalla testa. Il primo cittadino di Roma ha uno stipendio di 80 mila euro. C'è chi prende il triplo tra i dirigenti, ma si fanno le pulce ai dipendenti. Togliendo quel salario accessorio che corrisponde a 200 euro al mese e rappresenta per la stragrande maggioranza la possibilità di vivere dignitosamente in un paese mortificato dalle tasse e dove i padri mantengono i figli disoccupati almeno fino ai 40 anni. Il vice sindaco Luigi Gneri, a capo della trattativa con i sindacati, afferma di aver cercato in tutti i modi di fare appello alla ragionevolezza e al buonsenso. Gneri dovrebbe comprendere, con lo stesso buonsenso e con la stessa ragione, che a fare un passo indietro non possono essere sempre gli stessi. Persone che pagano tutto quello che c'è da pagare e percepiscono stipendi normali. Il marcio delle spese, quelle che fanno piangere le casse comunali e ridere le tasche di pochi e altrove. I sindacati addirittura dichiarano di faticare a contenere l'ira dei dipendenti. Domani, dalle 17.30 in poi, c'è un'assemblea capitolina sul salario accessorio, ma fuori, sulla piazza, è indetta un'assemblea sindacale pubblica aperta anche ai settori che venerdì non sciopereranno, come le aziende partecipate del Comune, che ancora spera in un accordo in extremis. Non c'è più niente da fare Ecco qua, questo ciò che accadrà venerdì, quindi insomma sarà una giornata di forte disagio, con anche gli asili chiusi, molte probabilmente persone non potranno neppure andare al lavoro. Comunque, in attesa che il problema si risolva, intanto c'è una buona notizia, almeno per la giustizia, perché sono stati condannati nove poliziotti per il pestaggio che avvenne dopo la finale di Coppa Italia. Il caso risale al maggio del 2010. Un giovane Gugliotta venne appunto picchiato dai poliziotti. Tra l'altro non c'entrava niente, oltre che non era giusto, insomma quel tipo di trattamento non c'entrava niente, non era neppure tra i tifosi che stavano andando allo stadio. Vediamo un servizio che ci racconta la sentenza. Nove agenti di polizia condannati a quattro anni di reclusione ciascuno per il pestaggio subito il 5 maggio del 2010 dal 26enne Stefano Gugliotta in occasione della partita di Coppa Italia-Inter-Roma. Fuori dallo stadio si verificarono gravi incidenti, ma Gugliotta fu formato in via del Penturicchio, a notevole distanza del luogo in cui dopo la finale ci furono gli scontri. Gugliotta, insieme a un amico, era appena uscito di casa per andare a una festa. Il pubblico ministero Pierluigi Cipolla aveva chiesto pene da due a tre anni. Il Tribunale è andato oltre, riconoscendo gli agenti colpevoli di lesioni aggravate, condannandoli a quattro anni a risarcimento di 40.000 euro. L'aggressione avvenne lontano dallo stadio e senza che ricorressero le esigenze di tutela dell'ordine pubblico di contrasto a particolare resistenza. Per questa vicenda è ancora in corso un altro processo per calunni e falso nei riguardi di un gruppo di agenti che verbalizzarono il caduto. Ecco, velocemente vi do anche un aggiornamento riguardo al... si parla sempre di emergenza abitativa allo sgombero che c'è stato ieri in via di torre spaccata. Ebbene, le persone, le famiglie che sono state allontanate ieri da quell'edificio che era stato occupato ad aprile sono, come dire, andate quasi a chiedere asilo. Insomma, si sono rifugiate nella Basilica di Santa Maria Maggiora. Hanno, tra l'altro, scritto un tweet dicendo che hanno intenzione di chiedere asilo al Papa. Hanno diffuso appunto le foto, e qua ne vediamo una pubblicata, le foto che li ritraggono scattate da loro stessi all'interno della Basilica. Allora, l'annuncio vi dicevo su Twitter, sgomberati di torre spaccata dentro la Basilica di Santa Maria Maggiore, chiedono asilo a Pontifex, che è appunto invece il nome con il quale ci si rivolge su Twitter proprio al Pontefice. Veniamo allora agli ospiti che ci faranno compagnia in questa parte di trasmissione. Benvenuto a Nicola Visconti. Allora, lui è presidente di questa manifestazione di cui vi parlavo, Sport Against Violence, ovvero sport contro la violenza. Insieme a lui c'è Giovanni Gava, presidente della Libera Accademia di Roma. Allora, saranno giorni di intensa attività sportiva e culturale, un'iniziativa contro la violenza, ma soprattutto per la multiculturalità. Allora, raccontiamo l'iniziativa e la sua storia, perché siamo la settima edizione. Sì, la settima edizione appunto è un'iniziativa nata per coniugare quelli che sono dei valori importanti, come quelli della solidarietà, della tolleranza, dell'accoglienza dei popoli con l'attività sportiva. Come tutti predicano, come tutti sanno, lo sport è uno dei mezzi per riuscire ad unire popolazioni più diverse. Noi, è proprio quello che stiamo cercando di fare fin dalla prima edizione. È nata, in verità, per sostenere un'iniziativa molto particolare, che era quella dell'organizzazione di una maratona in Iraq. E quindi, con tutto ciò che comporta, erano gli anni dell'occupazione americana, quindi in piena crisi del golf e in piena crisi irachena. Quello che cercavamo di sostenere era, appunto, naturalmente la pace, naturalmente i diritti umani, i diritti della donna, la libertà di espressione e così via. Da questa prima edizione poi c'è stata un'evoluzione, quindi siamo riusciti piano piano a coinvolgere altre associazioni che adesso ci affiancano in questa organizzazione e ogni anno abbiamo trattato dei temi importanti. Quello di base è, naturalmente, oltre alla pace, anche la multietnicità. Benissimo. Allora, l'inizione di quest'anno prevede un programma fittissimo che, appunto, riempie le giornate di sabato 7 giugno e domenica 8 giugno. E allora, per entrare un po' più dentro il programma, incuriosire i nostri telespettatori, vado da Giovanni Gava. Benissimo. Abbiamo pensato due giornate veramente all'insegna del tutto e della conoscenza, se così possiamo, alla cultura come bene comune, in senso di appartenere, frequentare, venite a trovarci, perché ci sono tantissimi docenti che gratuitamente, perché bisogna dire che questa è una manifestazione assolutamente all'ingresso gratuito e anche come sviluppo interno, a tanti docenti che si metteranno a disposizione dalla riflessologia plantale, allo yoga, alla ginnastica posturale dolce, alla danza del ventre, a varie attività, insomma, si metteranno all'esposizione di tutti quanti gli amici che ci verranno ad incontrare allo stadio Nando Martellini di Caracalla, quello vicino al Palazzo della Favo, e lì allestiremo un grandissimo villaggio con più di 40 stand e di una ventina di gazebo, dove verranno, diciamo, attivate varie operazioni. Quindi conviene venire vestiti comodi, pronti a qualsiasi esperienza sportiva o di benessere. Durante la mattina e durante il pomeriggio. Poi invece, per quanto riguarda la sera, diciamo anche che ci sono tante associazioni che ci stanno dando la mano, tra cui la corsa di Michele, tra cui l'associazione O'Live, con gli artisti di strada, i pittori che verranno addirittura a dipingere in diretta, proprio come siamo oggi noi, la manifestazione. La sera, diciamo, dalle 20, anzi tra le 19 fino alle 1 di notte, verrà allestito un grandissimo palco, un grandissimo palco con tantissime veramente azioni di spettacolo. Ne cito giusto qualcuna, ad esempio il sabato ci sarà una sfida, cultura confronto, in cui si metteranno proprio a confronto, ripeto la parola, musica, poesia e letteratura. Quindi la sfida di due nazionali, visto che siamo in tema di mondiale, il 12 giugno partire mondiale, facciamo proprio un premondiale a livello culturale. Quindi Italia-Germania ci sembrava una bellissima sfida per quanto riguarda il sabato. Invece la domenica ci sarà un'altra grande sfida, due nazioni che hanno un grande senso di competizione, parliamo sempre di amicizia, ovviamente, sono Francia ed Inghilterra, non poteva mancare la sfida delle sfide. Quindi in questo spettacolo si vanno a sfidare chi cosa? I cantanti lirici con pianisti, poeti, contro letterati. Insomma, quindi c'è una sfida delle sfide. Ci sarà anche un giudizio del pubblico, ci sarà forse probabilmente anche un vincitore, ma ovviamente parliamo sempre di qualcosa che porta a conoscenza delle varie culture, delle varie materie a confronto. Invece poi, subito dopo, il sabato, ad esempio, abbiamo dei gruppi, alcuni sono emergenti, altri no, sono affermati, tipo, ad esempio, sabato avremo il Muro del Canto, che è un gruppo molto forte di giovani, fatto da giovani, dove appunto... Allora, questi sono gli anoni... No, questi che dividiamo sono gli anoni armonistici, invece è un gruppo vocale fantastico che chiuderà, insomma, che verrà proiettato, verranno la domenica, 8 giugno, e saranno l'orientamento verso le 23. Prima ci sarà un cantautore, che è la MG Studio Recording, una casa di etichetta discografica che affianca la Libera Accademia di Roma dell'Università Popolare dello Sport, così come SAV, così come Sport Kids Violence, promuove appunto un cantatore che si chiama Davide Bancolini, che presenterà il suo CD. E poi avremo la presenza di Geggia, che presenterà anche un suo disco per l'estate che si chiama Mamma Dance. Possiamo pensare, Geggia, l'attrice comica che, insomma, viene a giocare un po' con il pubblico e fare anche un po' del divertimento oltre che della cultura. Va bene, allora metto intanto un altro video, visto che li abbiamo citati. Ecco qua il Muro del Canto, mentre continuiamo a parlare... Ci sarà anche un baritono lirico un po' alla Bocelli, che si chiama Marco Valerio Felici, che ci, insomma, regalerà una pagina musicale importante. Quindi, insomma, sono tanti gli ospiti, devo dire, e per me è veramente un... sono orgoglioso di quello che abbiamo creato e, insomma, in continuo di invitare tutti a venire perché è veramente una festa culturale, una festa dello sport. Dove aggiungere, se permetti, due parole per quanto riguarda, invece, c'è le manifestazioni sportive, molta staffetta, una gara in apertura dedicata alle Ollus, organizzata dalla Roma Ollus, quindi a una gara su strada con arrivo all'interno dello Stadio delle Terme. Poi la sera parte la classica 12 per mezz'ora, quindi dalle 18 fino alla mezzanotte. Anche qui una classifica generale più una classifica a parte per un'iniziativa che è Corri e Raccogli con un sistema per cui, oltre ai metri percorsi di corsa, conteranno anche le raccolte per i progetti delle varie Ollus. E, infine, la domenica, la staffetta Mappamondo che raggruppa più di 30 comunità straniere qui a Roma e quindi più che una gara podistica, una grande festa per portare tutti insieme all'interno dello Stadio. Allora, rapidamente, Nicola, ha riassunto una serie di cose però importanti sulle quali mi voglio soffermare perché mi sembra intanto molto carina questa Corri e Raccogli per cui le associazioni partecipando alla gara si faranno anche conoscere e potranno appunto con iniziativa, inventiva, coraggio, raccogliere fondi per le loro iniziative. Esattamente. Quindi è anche un momento di pubblicità e di divertimento uniti insieme che mi pare un'ottima idea. Appunto, poi questa staffetta Mappamondo che è un evento importante. Ecco, quanto è importante la, dicevamo, la multiculturalità, l'abbiamo visto negli spettacoli della sera. Sottolineiamo anche dal punto di vista sportivo come verrà messa in pratica. Noi pensiamo che veramente sia una delle poche manifestazioni a Roma dove una quantità così ingente di rappresentanti, appunto, le varie etnie si raggruppa e si confronta portando le loro tradizioni in tema di cucina, in tema di costumi, in tema di spettacolo e quindi veramente è un momento unico a nostro parere. Inoltre sulla domenica parallelamente alla staffetta Mappamondo ci sarà la conclusione di un progetto che abbiamo portato avanti nelle scuole superiori durante questi ultimi mesi che si intitola tutto un altro mondiale e per cui abbiamo rappresentato alle scuole i gironi del mondiale raccontando un po' non solo la parte sportiva ma anche la parte culturale di ogni singolo paese. Per finire questi incontri si sfiderà in un torneo di calcetto tra le scuole di Roma naturalmente con partite brevissime dove tutti saranno vincitori all'interno dello stadio. E tutti potranno però giocare ci saranno molti in panchina. Allora, interessante anche per quanto riguarda la notturna 12 per mezz'ora ci sarà la prima frazione che sarà a corsa dai ragazzi del progetto Filippide. Anche questa è una cosa che ci inorgoglisce molto. Ormai sono tre o quattro anni che abbiamo questa iniziativa. Praticamente la prima frazione è aperta dai ragazzi del progetto Filippide che è un progetto che si occupa di portare a fare attività sportiva ragazzi autistici. In questo caso la staffetta appunto 24 per 12 per mezz'ora si apre con questa frazione. I ragazzi del progetto Filippide vengono accompagnati dai corridori delle varie squadre che parteciperanno alla staffetta. È una frazione non competitiva ma che apre la staffetta che poi dalle 18.30 prende il via nella sua accezione agonistica. Allora Giovanni ha portato invece la copertina dell'Almanacco. Mi sento quasi un giornalista che presenta il numero della... Allora questa la faccio vedere. Vediamo poi. Anche prima vediamo. Questa è la copertina della Nuova Almanacco appunto sia dell'Università Paola dello Sport ma anche della Libera Accademia di Roma che insomma rappresento e che ha e vive dentro di tante idee e pensieri di materie che vengono esposte dai nostri docenti proprio come punto di forza. Sono due associazioni di non profite quindi di promozione culturale e che vivono proprio del del piacere della conoscenza e dell'apprendimento. L'educazione continua nel tempo. Benissimo allora però a questo punto le abbiamo citate tutte ma approfondiamo perché è interessante conoscere lo staff che ha creato tutto l'evento. Quindi la Libera Accademia di Roma che è rappresentata appunto da Giovanni Gava vogliamo dire qualcosa in più sulla vostra attività? Sì sì è un'attività di promozione appunto sociale dove la cultura e quindi dove tanto diciamo che i luoghi dove viene svolta la nostra azione sono diciamo tutto sul territorio quindi di Roma quindi non solamente in un posto centrale ma anche nei quartieri di Roma. I tre sono i principali sono via Palermo dove facciamo attività sia di teatro che di musica ma anche di lingue e di altre discipline sia a Via Leggiuro Cesare appunto dove abbiamo una importante sede e anche a Via Flavio Stilicone dove c'è una palestra e le attività la cosa importante è che nei nostri poli culturali chiamiamoli così nei nostri luoghi dove svolgiamo le azioni di educazione quindi di insegnamento ci sono tante materie non c'è solamente un settore non c'è solo la musica o il teatro o appunto la ginnastica posturale piuttosto che il tango e il ballo ma ci sono tante materie quindi quando chi viene da noi e si iscrive a una materia vede che nelle altre stanze nelle altre palestre c'è attività diversa da quella per cui c'è scritto quindi questo è interessante quindi insomma può anche curiosirsi si passa da un corso all'altro assolutamente sì divertente certo allora invece le altre due associazioni sono sportive appunto una è rappresentata da Nicola Visconti la Sport Against Violence e l'altra l'Università Popolare dello Sport il cui presidente è Giuseppe D'Agostino che oggi non è potuto venire in trasmissione ma che collabora molto strettamente con la Libera Accademia di Roma perché infatti l'Almanacco riporta i corsi sia di carattere culturale musicale di pittura eccetera e sia quelli di carattere sportivo e di benessere che la cosa cui tiene sempre molto pieno è dire che più che sport si tratta di benessere quindi una consapevolezza di quanto l'attività fisica sia un valore per l'intera società poi vorrei nominare ancora la Corsa di Miguel che segue la staffetta Mappamondo e il progetto Filippi di cui abbiamo già parlato e la Lucollus che è un'altra Ollus che organizza questa camminata di tre chilometri in apertura di manifestazione il sabato mattino allora andiamo a vedere anche il sito internet perché a questo punto abbiamo spiegato che ci sono tanti eventi ma tutti non riusciamo a poterli raccontare quindi chi vuole andare a compositivo e andare a vedere esatto c'è il nome appunto dell'evento che diventa sito internet e eccolo qua lo vediamo qui trovate appunto il programma trovate anche i partner le edizioni precedenti le spiegazioni insomma sia della storia che dell'attualità cos'è questo concorso internazionale fotografico no? abbiamo varie cose in primo piano c'è la settima edizione dell'evento un po' sotto c'è il secondo concorso internazionale SAV è una cosa è un concorso proprio fotografico perché è stato ripartito ovviamente un paio di mesi fa diciamo l'invito a tutti a chi insomma gli amanti della fotografia a partecipare a queste immagini riguardanti proprio resistenza e resilienza è il tema di questo concorso le immagini sono già arrivate le stiamo votando in questi giorni e quindi durante la manifestazione in particolare mi sembra sabato alle 5 però poi guardate il programma ci sarà la premiazione di questo concorso che è un concorso fotografico seconda edizione e sempre sullo stesso tema concorso letterario ha la sua prima edizione e quindi saranno letti i racconti che hanno vinto insomma ce ne inventiamo una più del veramente è un evento ricchissimo se volete ci sono le foto della scorsa edizione che si possono scaricare dal sito quindi mi pare che il messaggio sia ricco per per la pace quanti insomma quindi vi aspettate la partecipazione di tutti i romani diciamo i romani di 7 generazioni fino a quelli che sono arrivati e non solo romani perché appunto no appunto romani nel senso che vivono a Roma esatto sono veramente molti giovani anche il sabato in modo particolare parteciperanno ogni vera proprio l'evento tantissimi giovani io credo molto nel giovani nella forza e nello spirito che hanno quindi per me è una grandissima apertura quest'anno veramente all'unire l'età perché non c'è un'età in realtà benissimo davvero complimenti per questa organizzazione un immane programma vi dicevo inizia sabato alle 9 e va avanti fino a domenica con l'ultimo concerto alle 23 quindi 23 e 30 23 e 30 è sognato male lì va bene quindi ancora più tardi venite venite quando volete andate tutti allo stadio a Caracalla grazie davvero ci vediamo con Roma Città Aperta domani alla stessa volta arrivederci grazie 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 a tutti